Eiffel 65, Dario Ballantini, Prime Time di Radio Number One e tanto altro nell'ultima notte dell'anno spezzina. 5 Terra Express e tariffe, direttori e associazioni di categoria, basta decisioni senza coinvolgere tutti gli interlocutori. Lavori di restining alla stazione ferroviaria di Vernazza, gli investimenti sfiorano i 2 milioni di euro. Un mercatino speciale in prefettura, i Lions Club Ulivi raccolgono fondi per la lotta alla violenza contro le donne. Meno uno alla sfida casalinga contro il Parma, Mr. D'Angelo a caccia dei primi punti sulla panchina delle Aquile. Buonasera a tutti e a tutti benvenuti a questa, che è la quotidiana edizione del radiogiornale, del telegiornale di Tele Liguria Sud, nel caso quello di venerdì 1 dicembre 2023. Eiffel 65, Dario Ballantini, Prime Time di Radio Number One e tanto altro nell'ultima notte dell'anno spezzina. Questa mattina a Palazzo Civico è stato presentato il programma spezzino per la festa di Capodanno. Vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Sergio Diofili. Una notte di San Silvestro all'insegna della musica, del ballo e del divertimento. La grande festa cittadina per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024 si terrà proprio qui in Piazza Europa. Abbiamo voluto proprio dare questo segnale, la volontà di far divertire gli spezzini e i turisti in Piazza Europa, nella massima sicurezza, però con un programma molto bello, importante, con la regia di Radio Number One e poi Dario Ballantini, gli Eiffel 65 e il grande spettacolo Voglio tornare agli anni 90. Quindi una serata da trascorrere la spezia, venire alla spezia, mangiare alla spezia, divertirsi e poi tornare alle proprie case serenamente per un 2024 che ci auguriamo essere migliori all'2030. Una serata che mescolerà insieme musica e intrattenimento e che avrà come filo rosso gli anni 90, un periodo che in tanti ricordano con nostalgia. Il Capodanno 2024 alla spezia sarà sicuramente un Capodanno all'insegna del divertimento, della famiglia e del sano divertimento perché si torna a ballare con gli anni 90. Avremo quindi una gran parte della serata improntata sugli anni 90, a partire proprio dal show che ci sarà con O Vogli Tornare Agli anni 90. Tra l'altro lo show con diversi ballerini, mascotte quindi anche per i bambini, c'è il frontman DJ e tanti effetti speciali e sempre nel tema anni 90 chiaramente a mezzanotte ci saranno gli EFAL CC5 che riporteranno tutti i loro grandi successi quindi sarà un concerto dalla mezzanotte all'una che ci terrà a tutti quanti a ballare in Piazza Europa. E in apertura Radio Number One, i grandi Filippo Marciano e Sergio Sironi che sono i mattatori del mattino di Radio Number One daranno proprio l'inizio ai collegamenti della diretta per poi proseguire con Dario Ballantini che farà il suo show musicale quindi imiterà Vasco Rossi, imiterà Gianni Morandi, imiterà Gino Paoli, tutti questi personaggi che noi poi vediamo in televisione verranno live riportati sul palco qui in Piazza Europa. Quindi sarà un divertimento puro, si balla, ci si diverte e dovete venire. Il trasferimento dell'SC Neurologia tiene conto della improrogabile necessità di dismettere il padiglione 7 ed è frutto di una complessa valutazione della direzione dei professionisti circa l'utilizzo degli spazi ad oggi disponibili al Sant'Andrea. Lo ribadisce l'azienda sanitaria locale 5 tramite le parole del direttore del Dipartimento di Accettazione Urgenza DEA Cinzia Sani e il direttore della SC Neurologia Antonio Mannironi a seguito dei diversi articoli usciti sulla stampa di associazioni preoccupati della condizione del servizio. La ricognizione delle strutture a disposizione, proseguono i dirigenti di ASL 5, ci ha portato ad individuare all'interno del padiglione 6 i locali in grado di accogliere sia l'adegenza che gli ambulatori. Questa soluzione prevede una riduzione dei posti letto e dei locali dedicati alle attività ambulatoriali ma al momento altre alternative di ricollocazione con la tempistica richiesta non risultano percorribili. Lo sforzo di ASL 5 è quello di mantenere un livello di assistenza in grado di soddisfare il fabbisogno. Martedì 5 dicembre prossimo alle ore 17.30 nella Sala della Repubblica in via Falcinello 1 a Sarzana si terrà l'Assemblea pubblica sulla sanità Siamo stufi di essere pazienti. L'iniziativa è organizzata dalla rete di associazioni Insieme per la sanità pubblica. In una nota degli organizzatori si legge si parlerà delle nostre strutture sanitarie e dei nostri ospedali di liste di attesa, di carenze di servizi e personale sanitario, di assistenza domiciliare e territoriale, di benessere psicologico. Competenze in patologia pleurica è il titolo del convegno specialistico che si è svolto tra ieri e oggi all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. La patologia pleurica rappresenta infatti una delle principali cause di ricovero nei reparti di pneumologia, tanto più in una provincia come quella Spezzina, tristemente nota per il suo primato in particolare a proposito di tumori come il mesotelioma della pleura. Il servizio è di Italo Lunghi. Un momento formativo davvero importante, un fiore all'occhiello per la nostra pneumologia dell'Asda 5 Spezzina, un convegno particolarmente significativo. Per problematiche ambientali, come sapete, la patologia pleurica ha un forte impatto, una forte diffusione nella nostra provincia. Ci sono eminenti relatori che arrivano da tutte le parti d'Italia, però è anche un'occasione di confronto, di confronto per capire se facciamo bene, dove dobbiamo migliorare e quale strada ci riserva il futuro. E se abbiamo la possibilità eventualmente di migliorare in certe tecniche di pneumologia interventistica. L'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, che lei presiede per quello che riguarda la Liguria, dà un po' il patrocinio a questo corso. Un corso con un'ambizione di, attraverso i massimi esperti italiani di patologia pleurica, insieme a noi andiamo a formare dei discenti che sono specialisti, che vengono da diverse parti d'Italia. Se nelle lezioni frontali affrontiamo un po' quelle che sono le linee guida, le conoscenze a oggi su questa patologia, poi ci mettiamo alla prova insieme ad altri a mettere in campo quelle che sono pratiche, consolidate fortunatamente all'interno della nostra ASL. Toracoscopia, posizionamento di sondini endopleurici, biopsie ecoguidate, insomma metteremo in campo tutto questo. Molto spesso quando si parla di patologie importanti, come possono essere anche queste, si pensa sempre a rivolgersi all'esterno, non fidandoci magari delle specialità che abbiamo in casa. Oggi apparteniamo dal punto di vista della letteratura, siamo presenti sulla letteratura internazionale, siamo presenti in quelli che sono gli eventi nazionali e internazionali, compreso l'ERS, e quindi io credo che bisogna partire dalla formazione e da quella che è la ricerca scientifica, e lì ci siamo. Ma ci siamo anche su tutto quello che è la pratica, e quindi le tecniche a oggi messe in campo nella patologia pleurica, le ultime tecniche qui nell'AS 5 di La Spezia in pneumologia si fanno. La collaborazione che abbiamo con la nostra chirurgia toracica, con i nostri radiologi, con i nostri anatomopatologi, sono un altro fiore all'occhiello dal mio punto di vista. Ora vorremmo sempre di più anche interagire con il territorio, per fare in modo che sia davvero un continuum, e quindi il paziente abbia una risposta in ospedale, sul territorio, riguardo alla patologia pleurica in maniera moderna, attuale, e ci auguriamo ben fatta. Prosegue il servizio del pronto farmaco della Croce Rossa di Calice al Cornoviglio, svolto dai volontari in convenzione con il Comune. A Calice, due volte alla settimana, i volontari della Croce Rossa si fanno carico di un importante servizio sociosanitario per far fronte alle difficoltà delle fasce più deboli della popolazione. I cittadini infatti possono richiedere le ricette mediche sia recandosi direttamente alla sede della Croce Rossa in via Guglielmo Marconi 1, aperta il martedì e il venerdì dalle ore 9 alle 12, sia chiamando il numero 087-936-202 negli stessi giorni e orari. La Croce Rossa di Calice, precisa una nota dell'associazione, si occupa anche di effettuare trasporti sanitari in ambulanza sia in Italia che all'estero per visite ambulatoriali e dimissioni da strutture sanitarie, trasporti di pazienti dializzati, persone non deambulanti, persone invalide con particolari attrezzature, trasporti di organi ed emoderivati e trasporti per la REMS di Calice. I volontari della Croce Rossa italiana infine garantiscono anche un'assistenza alle persone in difficoltà economica del territorio attraverso la distribuzione di pacchi alimentari. Le associazioni di categoria non mollano sul tema delle tariffe del 5 Terre Express. Dopo la lettera inviata nei giorni scorsi, unitariamente, i direttori annunciano di mettere in campo ogni azione utile per contrastare questo modo di operare e di prendere decisioni senza il coinvolgimento degli attori interessati dalla vicenda. Aumento delle tariffe del treno 5 Terre Express, duro intervento delle associazioni di categoria spezzine che puntano il dito contro Regione Liguria per aver portato avanti una scelta senza coinvolgere gli attori del territorio interessati alla vicenda. Nonostante le richieste provenienti da tutto il territorio di valutare una soluzione migliore per la gestione dei flussi delle 5 Terre che non vada così fortemente a penalizzare la nostra provincia, siamo costretti a evidenziare la mancata collaborazione di Regione Liguria che va avanti per la propria strada senza interloquire con gli altri attori coinvolti. Queste le dichiarazioni che si leggono nella nota firmata dai quattro direttori Roberto Martini per Confcommercio, Angelo Mattelini di CNA, Giuseppe Menchelli di Confartigianato e Fabrizio Cappellini di Confesercenti. Lo scorso 28 novembre le associazioni di categoria hanno infatti inviato una lettera al presidente Giovanni Totti, all'assessore al turismo Augusto Sartori per chiedere un incontro urgente al fine di discutere insieme la scelta dell'ente di maggiorare il costo delle tariffe dei treni da e per le 5 Terre e mostrandosi fortemente preoccupate per le conseguenze di questa scelta impattanti per l'intera provincia e per il suo tessuto economico e commerciale. Nonostante questa richiesta urgente, le associazioni sono state convocate in data 8 gennaio 2024. Una data, prosegue la nota, fuori da ogni tempo ragionevolmente utile per poter discutere insieme e trovare una soluzione condivisa. Al contempo apprendiamo con grande stupore che Regione Liguria ha convocato in data odierna una conferenza stampa durante la quale ha illustrato il nuovo schema tariffario per il 5 Terre Express. Non possiamo fare a meno, concludono i quattro direttori, di esprimere il nostro sdegno e metteremo in campo ogni azione utile per contrastare questo modo di operare e di prendere decisioni senza il coinvolgimento degli attori interessati dalla questione. Le nuove tariffe turistiche del 5 Terre Express inserite nel contratto di servizio tra Regione e Trenitalia per il 2024, afferma il Presidente della Regione Giovanni Totti, garantiranno di traguardare diversi obiettivi. In primis una gestione più razionale dei flussi turistici, diluendo gli arrivi durante tutto l'anno ed evitando che migliaia di visitatori italiani e stranieri si concentrino a luglio e agosto oppure nelle festività con gli evidenti disagi registrati in questi anni. Le 5 Terre, si aggiunge nella nota, sono un patrimonio unesco in cui a primavera riapriremo integralmente la via dell'amore a conclusione di un intervento di messa in sicurezza senza precedenti. Vogliamo applicare a questo territorio, tanto meraviglioso quanto fragile, è lo stesso principio adottato dai grandi musei o in qualsiasi località a grande richiamo turistico. Ovviamente queste tariffe non si applicheranno per tutti i cittadini liguri residenti nella nostra Regione. Non è pensabile, data la criticità permanente dei servizi offerti da Trenitalia, che la gestione dei flussi sia risolvibile con un semplice aumento delle tariffe. Così dichiarano il consigliere regionale della lista Sansa Roberto Centi e Nicola De Benedetto del coordinamento regionale sinistra italiana. È davvero inaccettabile, proseguono, che la Regione proceda con una delibera di giunta prima ancora di aver siglato l'accordo con le amministrazioni che operano direttamente sul territorio. Nonostante l'allarme lanciato dalle associazioni di categoria e da molte associazioni del territorio, il Presidente della Regione è andato avanti senza nessun momento di confronto. Così il consigliere e segretario regionale del Partito Democratico, Davide Natale, interviene nuovamente sul tema delle tariffe del 5 Terre Express. Le tariffe approvate non rispondono all'esigenza di una necessaria regolamentazione dei flussi turistici, conclude Natale. Quanto approvato metterà in crisi una organizzazione collaudata e un'imprenditoria che dopo tanti anni di difficoltà era riuscita a rilanciarsi. Avviati gli interventi di ampliamento degli spazi riservati ai viaggiatori sul marciapiede di stazione con la realizzazione di un nuovo ascensore e una nuova scala di accesso nella stazione di Vernazza, così da garantire una miglior gestione dei flussi in ingresso e in uscita. Le attività realizzate da RFI per un investimento economico di 1,8 milioni di euro garantiranno una miglior accessibilità agli spazi di stazione aumentando gli standard di sicurezza e comfort. Gli interventi di ampliamento del marciapiede e di realizzazione della scala termineranno entro la prossima primavera. Entro la fine del prossimo anno sarà operativo anche l'ascensore. Fincantieri ha definito i principali termini e le condizioni per l'acquisto da Advanced Technology Industrial Group S.A. del 100% delle azioni di Remazel Engineering S.P.A. In una nota di Fincantieri si legge Il perfezionamento dell'acquisizione sarà soggetto al verificarsi di alcune condizioni stabilite fra le parti. Con questa operazione Fincantieri intende accelerare la crescita delle proprie competenze tecnologiche, ingegneristiche e realizzative nei settori offshore e subsea. Chiusa la stagione della pesca all'acciuga nel Mar Ligure, questo fermo volontario, spiega Daniela Borriello, responsabile regionale di Coldiretti in presa pesca, è sempre stato effettuato dai pescatori liguri e non remunerato dallo Stato, scaturisce dal rispetto delle tradizioni locali e dalla presa di coscienza che l'attività di pesca debba passare da una buona gestione della risorsa. La chiusura della stagione di pesca all'acciuga è finalizzata ad un consumo consapevole basato sulla stagionalità che, come per i frutti della terra, è sempre garanzia di una più alta qualità e freschezza, conclude la Borriello. Un pomeriggio di solidarietà e un'occasione per scambiarsi gli auguri. La sala della Prefettura per tre giorni diventa un bazar benefico a cura del Lions Club Ulivi che devolverà gli incassi per la tutela delle donne vittime di violenza. E oggi spazio di confronto per lo scambio di auguri con la stampa, con il prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini. Vediamo il servizio. Continua le iniziative per le giornate contro la violenza sulle donne. Adesso è giunto il momento di aiutare chi aiuta le donne in difficoltà. Sì, lo scopo di questo mercatino è quello di raccogliere fondi per l'attività del protocollo che abbiamo costruito in prefettura per aiutare, contrastare la violenza alle donne. Ringrazio tantissimo i Lions, la Spezia e gli Ulivi, per tutto l'impegno messo nell'organizzare il mercatino nel raccogliere tutto il vestiario, tutti i gioielli che ci sono qui. Invito tutti ovviamente a fare un giro e veramente come aiutare chi vuole aiutare le donne. Aiutiamo anche gli uomini maltrattanti perché noi abbiamo due protocolli per recupero di uomini maltrattanti. Quindi aiutiamo tutti, uomini e donne. Nell'ambito spezzino ci sono due modi per gli uomini maltrattanti per avviare un percorso di recupero. Quello volontario e quello ovviamente tra virgolette spinto o dal questore o dalla magistratura in sede di applicazione di misure cautelari. Abbiamo avuto in tutto una trentina di adesioni. È chiaro che è una cultura che deve maturare. Abbiamo appena iniziato ma grazie anche ai importanti finanziamenti regionali che abbiamo avuto speriamo di poter ampliare la nostra attività e raggiungere un maggior numero di uomini. Comunque dico anche agli uomini che si sentono fragili, non abbiate paura. Ci siamo anche per voi. Quanto è importante anche aiutare chi aiuta le donne in difficoltà? Noi come club, come base valoriale, abbiamo il motto We Serve. Noi diamo il nostro contributo a aiutare chi è in difficoltà. Abbiamo subito accettato la proposta del prefetto di collaborare con la prefettura per accogliere fondi per le istituzioni che si occupano di contrastare questo fenomeno della violenza sulle donne. Siamo orgogliosi come club di solo donne di poter dare un aiuto, un contributo e speriamo che non solo sia una questione di raccogliere fondi ma vorremmo dare anche il messaggio di sensibilizzare che è importante il rispetto non solo per la donna, ma per tutti. Perché se non ci rispettiamo non abbiamo un futuro. Torna domenica l'Erici il bazar natalizio organizzato dall'Associazione International Women della Spezia. Il ricavato, come ogni anno, sarà donato ad associazioni benefiche del territorio. Vediamo il servizio di Maria Cristina Sabatini. Anche quest'anno l'International Women's Club di La Spezia organizza il bazar di Natale. Quando sarà e che cosa potremo trovare? Il nostro bazar, che si ripete ogni anno, è questa domenica, 3 dicembre, nel palazzo municipale di Lerici, il comune. E vi potete trovare lì tante belle cose da donare per i vostri amici, famiglia a Natale. Sono banchi di prodotti inglesi e prodotti americani. Più c'è un bellissimo shelter di vestiti vintage. Abbiamo un banco di cucito, che sono tutti articoli cuciti a mano, da nostri membri, soci. E in più c'è un banco di oggettistica di tutti i tipi, accessori. Poi abbiamo libri in varie lingue, piante curate tutto l'anno da un gruppo di donne, che portano queste piante meravigliose per il nostro bazar. Più un banco di giocattoli per i bambini. Quest'anno, per la prima volta, abbiamo un trio che vengono a suonare jazz e canzone di Natale. A che ora? A mezzogiorno. Non perdete questa occasione, perché sono bravissimi. Il ricavato delle vendite, a chi andrà? Il ricavato va sempre a delle associazioni locali e qualche volta abbiamo anche fatto delle donazioni all'estero, in Kenya, Etiopia, per le scuole dei bambini poveri. Quindi più acquisti si faranno, più ci sarà possibilità di fare del bene al prossimo. Quindi è importante venire e comprare qualcosa. In più, se sei fortunato, c'è una lotteria, ci sono dei cesti meravigliosi, piene di cose buone per Natale, e puoi vincere una cesta. Taglio del nastro all'ISA 4, nell'atrio del Palazzo degli Studi, Plesso Mazzini, per una mostra dedicata alla straordinaria figura di Ubaldo Mazzini, per il centenario della sua morte. I pannelli espositivi sono stati elaborati dagli studenti delle classi terze e della scuola secondaria di primo grado Mazzini-Pellico. La mostra sarà accessibile al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 14.30 fino al prossimo 1 marzo 2024. L'incontro organizzato dall'Associazione Sarzana Sipuo, dedicato all'agricoltura in Val di Magra, è stato sospeso a causa dell'allerta meteo e spostato a giovedì prossimo 7 dicembre, sempre al centro sociale Barontini. Ritornano le conferenze organizzate dal Liceo Classico Costa quest'anno riguarda il diritto e il mondo antico. Vediamo l'intervista raccolta da Maria Torre con le immagini di Sergio Diofili. Il Liceo Classico Costa organizza un evento, la Settimana della Cultura Classica, uno sguardo sul diritto dal mondo antico. argomenti estremamente interessanti. Come si svolgerà? Sarà un ciclo di conferenze che avrà luogo nel nostro istituto dal 4 al 7 dicembre, intorno al tema poco praticato del diritto, visto da vari punti di vista, e quindi un percorso che andrà dal diritto di guerra, da una tragedia greca, alla nascita del diritto romano, alla regalità omerica, passando per cancel culture, fino a una conclusione da parte dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Queste conferenze si inseriscono in una tradizione consolidata della nostra scuola, che già da dieci anni organizza questi incontri per la cittadinanza, dopo l'anno passato sull'educazione e quello prima ancora sulla pestilenza. Quest'anno vogliamo proporre un tema poco indagato e che rimane in genere ai margini, specialmente dell'ambito scolastico, per proporre un'indagine sull'oggi alla luce di ieri. E come è giusto che i classici ci insegnino a leggere il presente guardandoci anche alle spalle e in vista naturalmente del futuro. A chi sono rivolti questi incontri? Sono rivolti all'intera cittadinanza e del resto è la decima edizione di questo evento che siamo lieti di riproporre alla collettività, sperando in una affluenza calorosa. Nuove opportunità nel settore degli autotrasportatori. La Confartigianato organizza infatti un corso per poter aprire un'attività in merito. Vediamo un'intervista ancora di Maria Torre e le immagini sono sempre di Sergio Diocchi. Confartigianato organizza un corso per autotrasportatori. Di cosa si tratta? Allora, è un corso che si rivolge agli imprenditori, ai futuri imprenditori che vorranno diventare corrieri o trasportatori fino a 3,5 tonnellate, cioè il classico corriere, che sono mezzi che si possono già guidare con la patente B, ma c'è la necessità di fare un corso che è soprannominato capacità professionale che si consegue attraverso un corso senza esame finale autorizzato dal Ministero dei Trasporti di 74 ore. Lunedì in Confartigianato iniziamo parte di questo corso, c'è ancora la possibilità di iscriversi rivolgendosi ai nostri uffici e durante il corso sarà possibile parlare dei contratti di trasporto, delle regole dei vettori, del mercato, della capacità finanziaria, cioè tutte quelle cognizioni che servono per chi desidera aprire un'attività di trasporti che da adesso, dallo scorso anno è libera, quindi non c'è più, cioè una volta conseguito questo titolo è possibile aprire la partita IVA e iniziare questa attività. No, il settore dell'autotrasporto è un settore in crescita in questo periodo? Ma sicuramente basta pensare alle consegne dei pacchi di Amazon dei piccoli corrieri il settore diciamo dell'autotrasporto fino a 3,5 tonnellate è un settore in crescita proprio anche legato che è abbastanza ampio perché comprende chi fa piccoli trasporti, chi fa consegne di pacchetti e di posta, chi fa traslochi, chi fa consegne specializzate per la nautica, quindi è un settore di nicchia piccolo che non è legato al porto, non è legato ai container e che sia con tanti imprenditori italiani ma anche tanti stranieri che hanno la possibilità con questo corso di emanciparsi e aprire un'attività quindi è un settore sicuramente in crescita. Sono sette i nuovi diplomati barman con commercio imprese per l'Italia per l'Italia alla Spezia e sono Agro Gabriel Cabrera Maialin Conti Mattia Garodias Ledis Arlene Lanzoni Gianmarco Ortiz Garcia Junlissa e Tobia Isabel Clarissa chi fosse interessato precisa una nota di Confcommercio a ricevere ulteriori informazioni su questo e altri corsi può contattare la referente Silvia dell'Italia al numero 0187 59 85 101 oppure mandare una mail all'indirizzo segreteria chiocciola confcommerciolaspezia.it Nuovo appuntamento con la trasmissione destinazione entroterra a cura dell'ufficio comunicazione di Confcommercio la Spezia imprese per l'Italia nella puntata di questa sera le protagoniste saranno la Valdivara e Sarzana in un tour storico artistico e culturale vediamo il servizio le immagini sono di Davide Morina visitare l'offerta artistica storica e culturale dell'entroterra è il filo conduttore della nuova puntata di destinazione entroterra il progetto di Confcommercio la Spezia in collaborazione con Tere Liguria Sud e il sostegno di Regione Liguria in questa puntata siamo partiti dall'antico ponte di Pignone simbolo della resilienza di un intero territorio che ha saputo sollevarsi e ricostituirsi dopo l'alluvione del 2011 per arrivare poi a Borghetto Vara con il santuario di Nostra Signora di Roverano e ancora nel comune di Sesta Godano a Groppo un accenno alle teste potropaiche testimoni di credenze e osanze infine il nostro tour ci ha condotti a due fortezze con due storie diverse ma unite nel tramandare le vicissitudini di un popolo Varese Ligure con il suo castello e Sarzana con la fortezza firma Fede la regia è a cura di Davide Morina i contenuti dell'ufficio stampa di Confcommercio alla Spezia il progetto destinazione entroterra è composto da quattro azioni con il fine di favorire il commercio di vicinato valorizzare gli esercizi della tradizione studiare il territorio e analizzare quali siano i motivi che contribuiscono a rendere un'area meno attrattiva di un'altra proponendo l'insediamento di nuove attività qualora sia necessario e valorizzando l'offerta attraverso un'attenta ed efficace campagna marketing l'associazione di Via Fonte Vivo ha individuato nella Val di Vara e nella Val di Magra alcune zone a maggior rischio desertificazione e torna questa sera ore 21 e 30 all'appuntamento con Coine la spezia di tutti e la rubrica di Marco Bartolini con la regia di Davide Morina benvenuti a una nuova puntata di Coine la spezia di tutti la trasmissione dedicata alla comunità questo significa Coine della provincia spezzina iniziamo con un'iniziativa di Confindustria dedicata alle imprese della Blue Economy a seguire il decennale dell'emporio della solidarietà della Caritas poi il rapporto sull'economia spezzina della Camera di Commercio e per l'appuntamento con il sindaco questa volta andiamo a Rio Maggiore l'artista Fabio Castagna di Falcinello esporrà dal 2 al 16 dicembre prossimi nelle sale della Galleria Mestiza di Madrid con opere del suo movimento artistico del sovrapporto posizionismo in contemporanea dal 6 al 10 dicembre esporrà alcune altre sue opere all'arte fiera internazionale Red Dot and Spectrum Miami a Miami Stati Uniti la più grande fiera dell'arte quest'ultima internazionale a livello mondiale nuova presentazione del libro di Dino Grassi io sono un operaio memoria di un maestro d'ascia diventato sindacalista che si terrà a Lerici sabato 2 dicembre ore 16 e 30 nella sala di Uni 3 Luca Borzani storico e giornalista dialogherà con Giorgio Pagano curatore dell'opera e veniamo allo sport cominciando con il calcio meno uno alla sfida casalinga contro il Parma parliamo dello Spezia ovviamente mister D'Angelo accaccia dunque dei primi punti sulla panchina delle Aquile ma sentiamo un estratto della conferenza stampa vediamo il servizio abbiamo recuperato Bandinelli a pieno regime perché si è allenato tutta la settimana con la squadra perdiamo Cassata per la squalifica e gli altri giocatori sono tutti a disposizione compreso Mirko Antenucci che tornerà oggi all'enassi con la squadra ieri ha provato tutto e perciò è disponibile Parma è una squadra che fa della velocità nella ripartenza la sua arma migliore noi dovremmo essere bravi a non concedere queste ripartenze che alcune ovviamente ci saranno ma dobbiamo fare la nostra partita nel senso che dobbiamo cercare di difendere bene innanzitutto e poi giocare la nostra partita perché abbiamo i giocatori con le caratteristiche e delle buonissime qualità per mettere in difficoltà qualsiasi difesa compresa quella del Parma perché i Moro più esposito lo stesso Crolis verde Cipot sono tutti giocatori Mirkont Nucci sono tutti giocatori che se messi nelle condizioni di segnare i gol li fanno o li fanno fare noi giochiamo in casa nostra e dobbiamo cercare di aiutare e farci aiutare dalla gente dai tifosi domani pomeriggio perché è importante che le due componenti spingano entrambe nella stessa direzione i tifosi lo hanno fatto anche a Genova in maniera così totale per tutta la partita fino alla fine e sono convinto che lo farà anche domani perché se il tifoso vede che la squadra in campo dà tutto quello che ha sicuramente incita e se poi il risultato non va bene ovviamente Mugugna e Fischia di conseguenza ma durante la partita una mano te la danno qualcuno è in dubbio che probabilmente si porta dietro i risultati della passata stagione e purtroppo anche quelli di questo campionato perciò noi in queste partite che mancano alla fine del giorno d'andata dobbiamo capire quelli che sono i ragazzi che hanno voglia di così togliersi la giacca e la gravata e mettersi qualche indumento più consono a quello che dobbiamo fare da qui alla fine del torneo e dal calcio all'occhio su pista in Serie A1 fa visita domenica al forte ed emarmi il Gamma Innovation Sardana che nel frattempo continua a segnare e giocare bene ma anche a soccombere nel finale nel servizio che segue sentiamo il campione del mondo Under 19 con l'argentina Joachim Olmos un punto nelle ultime tre gare in tre turni dunque dalla vetta o quasi in Serie A1 nazionale al sesto posto contro il Follonica al vecchio mercato nel weekend scorso una volta di più il Gamma Innovation Sardana ha dato l'impressione di avere il fiato un po' corto andando a ottenere il peggio quando tutto pareva scorrere al meglio e così pur due volte in vantaggio per due gol alla fine Capitan Borsi e compagni hanno perso per 7 a 6 ora testa al derby di domenica prossima perché si vanno in casa del forte dei marmi i sardanesi i versigliesi per la cronaca sono reduci da un impegno freschissimo in Champions League e allora in bocca al lupo un paio di errori in fase difensiva purtroppo a questo punto decisivi nel finale ci sono costati il risultato contro il Follonica contro cui ad ogni modo abbiamo pur sempre fatto la nostra partita abbiamo fatto il nostro gioco abbiamo pur sempre segnato se il gol 6 non si può dire se è andata male ad ogni modo adesso siamo concentrati stiamo lavorando duro in vista della trasferta contro il forte in chiusura di TLS giornale veniamo alle previsioni del tempo a cura di LIMET centro meteo per la Liguria grazie per averci seguito e a tutti buon proseguimento di serata naturalmente su Tele Liguria Sud arrivederci una buona serata a tutti da Paolo Bolino vediamo le previsioni per sabato 2 dicembre in Liguria il transito di un fronte freddo darà origine a rovesci anche temporalischi tra la prossima notte e la mattinata di domani deciso miglioramento e calo termico domenica e nuova perturbazione lunedì con precipitazioni in serata anche di tipo nevoso a bassa quota ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani sabato 2 dicembre tra la notte e la mattinata tempo perturbato sul settore centro orientale temporali sullo spezzino in allontanamento verso Levante e altri temporali a metà mattinata in discesa dal basso Piemonte verso il settore centrale Ligure possibili grandinate e colpi di vento nel pomeriggio veloce miglioramento con belle schiarite e residui fenomeni in serata sull'estremo Levante in via di attenuazione venti molto forti da sud ovest nella notte e al primo mattino in ebrusca rotazione a nord ovest al passaggio del gruppo temporalesco mare da molto mosso ad agitato con molto ondoso in calo dalla sera temperature minime in aumento nelle aree interne stazionarie invece altrove massime in generale calo lungo le coste prevediamo minime tra 11 e 14 gradi massime tra 12 e 15 gradi nell'interno minime tra 5 e 8 gradi massime tra 9 e 11 gradi se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centometroligura.com e non dimenticate di scaricare la nostra Ad Limet www.centometroligura.com www.centometroligura.com www.centometroligura.com